Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In FIPI lì si ricorda che per lavori urgenti è stato chiuso il tratto tra Ginestra Fiorentina e La Strassigna in direzione Firenze, mentre per i mezzi pesanti con massa superiore alle 7,5 tonnellate uscita obbligatoria a Montelupo Fiorentino. Conseguenti disagi a questo provvedimento con due chilometri di coda tra Empoli Ovest Edempoli in direzione Firenze, in direzione Livorno invece code tra La Strassigna e Ginestra Fiorentina e code in uscita a San Miniato e La Strassigna. Ripercussioni ovviamente anche sulla viabilità ordinaria con code in particolare sulla statale 67 Tosco-Romagnola tra La Strassigna e Ponte Assigna in entrambe le direzioni. E per il momento è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!